Siamo al prossimo? Prego, prego, sindaco, prego. Niente, volevo soltanto dire una cosa, quanto è stato irrispettoso il comportamento dei consiglieri di minoranza che hanno lasciato la stanza online su un argomento così importante per le sorti del nostro comune perché se oggi non viene approvato questo piano, praticamente il comune di Spadafora andrà in dissesto e in dissesto significa che molta gente che ci lavora anche qua dentro andrà a casa e perderà il pane. In dissesto significa che il comune, che oggi magari rappresento io ma che domani sarà rappresentato da un altro soggetto non potrà più fare programmazione di nessun tipo. Quindi non so perché, per quale motivo, insomma hanno abbandonato l'aula così senza esprimere un voto ben preciso che potevano anche benissimo anche astenersi. Però, dico, quando si parla delle sorti, secondo me, di un ente, bisogna pensarci due volte prima di fare una cosa. Grazie.